Bene, buongiorno a tutti e benvenuti a questo GeoBreak. Ringrazio intanto i partecipanti live e ascoltatori che ci ascoltano in diretta per questo gesto di fiducia e di interesse. Oggi facciamo una chiacchierata, un argomento in realtà abbastanza vari, cercando di seguire un filo rosso di discussione che ho pensato rettamente su un percorso di lavoro fatto di recente, cercando di astrarre alcune cose utili che mi è capitato di trattare. In sostanza ho colto l'occasione di un lavoro che riguardava un catastro strade che in questo caso è un po' la scusa per questo discorso e in realtà l'astrazione serve per stimolare la fantasia, le idee, per applicazioni similari perché in effetti è un processo che si adatta bene a diverse tipologie di problemi. È andato bene per catastro strade e ci sono diverse tipologie di applicazioni che si possono affrontare in questo modo. Quindi iniziamo con una sorta di introduzione anche sull'argomento del catastro strade, è un po' doverosa giusto per avviare la discussione, però vedrete che scivoleremo abbastanza presto, volentieri, su discorsi un po' più tecnici, un po' più informatici, cercando di dare un taglio comunicativo, insomma, che si capisca anche le idee, parlando più che altro di vantaggi e di produzione, insomma, del lavoro fatto. Quindi iniziamo, parliamo appunto di, intanto, catastro strade. Spero voi vediate, no, non vedete ancora lo schermo condiviso, è solo una coincidenza della prima slide con lo sfondo. Ora dovete vedere anche quello che ho davanti e su cui parlerò. Intanto sono anche poi curioso, intanto avvierò la discussione, ma di capire poi cosa vi ha spinto anche qua. Quindi se poi volete, vorremmo aprire un minimo di tavolo di domande molto volentieri, anche per rendere più viva la puntata. Quindi iniziamo con il problema che ha stimolato tutto questo. Il problema è quello legato al catastro strade. Abbiamo già parlato in altri webinar di questo tipo, in altri geobreak, di catastro strade, nello specifico dei catastro strade che abbiamo internamente come GTR trattato. Altri miei colleghi hanno fatto quegli interventi che si erano occupati allora della progettazione, del lavoro del catastro strade. Che cos'è un catastro strade? Il catastro strade è un'esigenza che nasce nel tempo ormai piuttosto remoto, nasce da indicazioni di leggi, essenzialmente dal 29, comunque quegli anni in cui praticamente lo Stato si rende conto di dover manutenere, o comunque decide di dover manutenere, dare un servizio, decide che le strade di comunicazione a livello nazionale sono un servizio offerto ai cittadini. Quindi decide di gestirle effettivamente con i soldi dei cittadini e di doversi attrezzare internamente per dare questo servizio adeguatamente. È un servizio perché la gente lo usa per spostarsi, la gente deve poter anche spostarsi in sicurezza senza rischiare la vita con le buche banalmente e avendo un'infrastruttura in cui possa ritrovare anche l'applicazione delle leggi del codice della strada, la cartellonistica, eccetera. Quindi con l'emanazione del codice della circolazione stradale del 29, le strade nazionali vengono dichiarate come appartenenti allo Stato, fanno parte del demanio pubblico e le strade provinciali e comunali fanno parte dei beni di uso pubblico delle province e dei comuni. Questo poi come prima dichiarazione e poi si praticamente impone agli enti proprietari delle strade di quindi gestire, quindi classificare la rete stradale e si danno anche alcune altre indicazioni, tipo gli enti proprietari sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catastro delle strade e le loro pertinenze. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale ha il compito di acquisire i dati all'interno del territorio nazionale, elaborarli, pubblicarli annualmente, nonché comunicarli a organismi internazionali. Tutto questo è una dichiarazione di intenti formalmente anche, insomma, bello da un certo punto di vista, nel senso che appunto è la dichiarazione di un servizio che viene dato, come in tutte le questioni legislative, poi si arriva anche a definire delle modalità attuative, tanto che si arriva a leggere poi in articoli successivi anche nel tempo e negli anni, mano a mano che anche la tecnologia viene in aiuto alle problematiche di tutti i giorni, si arriva a definire anche indicazioni del tipo che il catastro strade deve essere organizzato secondo, questa è una citazione proprio di quello che trovate dall'articolo 3 del 2001, secondo un'architettura hardware di tipo client server con possibilità di collegamento in rete al fine della consultazione di parti terze. Quindi da indicazioni piuttosto generali e di buona volontà, si arriva a indicazioni precise sul lavoro da svolgere, addirittura si arriva a un suggerimento di architetture software, qui dice anche hardware, ma si potrebbe un po' discutere su quel concetto, in ogni caso dice proprio che il problema deve essere suddiviso in diverse parti, client server, nell'articolo, già un po' poco fa di nuovo, è citata anche un'architettura software di storage praticamente, di salvataggio dei dati e fa riferimento anche in maniera esplicita e molto dettagliata a tecnologie, facendo riferimento poi a database relazionali e indica i database relazionali come strumento principe per la gestione del catastro strade. Quindi arriva a definire anche un'architettura degli strumenti che poiché, un punto spaisato di fronte alle indicazioni iniziali, a quel punto deve poter partire nel percorso di sviluppo dell'architettura del catastro strade perché ha proprio anche le indicazioni su che cosa deve mettere su, quali strumenti acquisire. È vero che si potrebbe discutere e proporre anche architetture assolutamente equivalenti, basate su ormai tecnologie anche molto diverse, però adesso questo è un po' lo stato di fatto anche delle richieste e tra l'altro va proprio, ora qui bisogna vedere dove è l'uovo e la gallina, chi inizia prima, ma va verso proprio alcune soluzioni che in rete si trovano anche in software libero e non solo, che hanno proprio questo tipo di architettura. Perché? Perché il catastro strade non è un problema unico nel suo genere, ha le sue peculiarità, ma se astratto adeguatamente in realtà può essere risolto con strumenti che includono nella loro soluzione la problematica del catastro strade e con questo anche altri tipi di problematiche. Qui un po' il salto che dicevo prima, a me adesso qua interessa appunto il catastro come scusa per iniziare, ma si potrebbe sostituire poi questa prima parte con altre problematiche e mantenere il resto della discussione identico a quello che è il resto della presentazione che ho preparato con gli stessi volendo strumenti. in pratica vengono definite alcuni blocchi dell'architettura di una soluzione possibile di catastro strade. Servono degli strumenti di definizione della forma della logica del dato, quindi uno storage in grado di definire il dato nel suo dettaglio per ospitare appunto tutti i dati che si prevede di ospitare e di gestire con i quali fare ricerche e statistiche su i dati raccolti, sulla rete stradale quindi gestita in database, su gli elementi dei cartelli stradali, su tutti quegli elementi che appunto con i quali si va a definire la nostra rete stradale che saranno gestiti ognuno con diciamo poi alla fine tabelle diverse comunque oggetti definiti al nostro interno del nostro sistema. Serve uno strumento di back office per il lavoro di raccolta dati quindi gli utenti che diciamo l'istituzione pubblica avrà una parte di personale dedicato al rilievo in campo ma poi dovrà anche appunto avere strumenti per raccogliere quei dati presi in campo e quindi poi riversarli sul database di cui abbiamo parlato un attimo fa. Servono strumenti e poi siccome poi si configurava una un'architettura client serve che in realtà aveva poi lo scopo la finalità della della trasparenza nei confronti dei cittadini cioè di poter appunto fornire poi le informazioni che vengono raccolte anche a terzi quindi dimostrare che il lavoro si sta facendo dimostrare che si sta facendo bene ma anche approfittare per dare proprio anche un servizio informativo su come l'infrastruttura stradale viene gestita. Quindi servono anche strumenti di distribuzione del dato e qui nel rispetto degli standard condivisi ormai abbiamo sappiamo di cosa di cosa parliamo in questo caso abbiamo standard protocolli di condivisione dati per ogni ambito esistono anche per l'ambito della distribuzione del dato geografico in questo caso e esistono strumenti server che pescano appunto nel nostro storage e distribuiscono secondo protocolli standard il dato a richiesta appunto verso servizi client quindi un ultimo mattoncino che serve alla nostra architettura è uno strumento front-end di fruizione del dato quindi la creazione di mappe tematiche che pescano appunto i dati dallo storage che attraverso appunto i protocolli di cui ho parlato prima e costruiscono una forma grafica apprezzabile comprensibile a chi la legge con strumenti sia di interrogazione ma anche di editing quindi di fare anche per dare contributi attraverso anche l'interfaccia web volendo questa architettura possibile che qua è abbastanza volutamente astratta in realtà si cala molto bene in alcune realtà di soluzioni che si trovano in rete una per tutte ma più per esperienza interna nostra è questa qua che vedete il fatto di suddividere i problemi singoli in singoli mattoncini della nostra architettura consente anche al netto di mantenere quelli che sono appunto i protocolli di comunicazione tra le parti rende possibile anche la sostituzione e la scelta di in realtà soluzioni differenti da quelle qui citate però qui si va verso proprio un'architettura che appunto come dicevo prima si trova in rete come soluzione offerta per in realtà problematiche differenti che non sono ben definite sono generiche si offre questa possibilità e che trova in realtà in cui trovano soluzioni in realtà diverse problematiche tra cui secondo me molto bene quella anche del catastro strade l'architettura quindi di cui delle componenti che abbiamo visto prima in questo caso si veste degli strumenti che vedete qua quindi lo storage intanto rifacendosi anche le indicazioni proprio di attuazione delle leggi è proposto un database relazionale Postgres QL nel dettaglio Postgres chiede dell'ambito sa che è l'estensione spaziale di gestione dei dati georiferiti spaziali del database Postgres per quanto riguarda il lavoro di back office quello che qui viene offerto nell'architettura è lo strumento QGIS lo strumento desktop che permette appunto l'editing la raccolta dei dati l'interfacciamento alla parte di storage e già permette la gestione lato diciamo dell'amministrazione permette già il lavoro di manutenzione manca la parte con solo questi due mattoncini il lavoro potrebbe comunque essere svolto mancherebbe manca la parte di esposizione del dato di trasparenza verso il cittadino verso il pubblico che comunque è indicazione di legge e per questo viene sono aggiunti il il cugino di QGIS desktop che è QGIS server che è un software server appunto che diciamo dedicato alla diffusione in rete attraverso i protocolli standard condivisi dei dati che si possono appunto preparare attraverso QGIS raccogliere attraverso QGIS permette il caricamento il trattamento di una molteplicità di formati di dati che possono essere raccolti essere il risultato della raccolta dei dati sul campo e QGIS server permette di trasformare questo dato in e più che altro distribuirlo attraverso protocolli standard qui si parliamo di servizi di rete di richiesta dei dati e che quindi è possibile poi realizzare mappe online tematiche attraverso i dati raccolti l'ultimo pezzo che manca è proprio la realizzazione grafica del front end la interfaccia che permette in realtà all'umano di capire poi le informazioni distribuite ed è in questo caso impersonata da LeedsMap Web Client ripeto ogni pezzo dell'architettura è sostituibile volendo questo è una soluzione che in rete si trova ed è anche molto ben manutenuta da sviluppatori dedicati qui vedete in sostanza come si distribuisce il lavoro tra il desktop dove il dato viene appunto preparato e caricato nel database il database viene pescato dal server che distribuisce i protocolli standard tipicamente OGC tipo WMS WFS a seconda distribuzione di dati raster o vettoriali e poi un'altra parte in realtà server è l'applicazione PHP realizzata nel linguaggio PHP che in realtà realizza il frontend attraverso il quale i dati sono fruiti e resi in maniera grafica quindi partendo dal primo problema iniziale questa architettura ormai non è una proposta nuova sono tutti in realtà software che hanno una buona esperienza sulle spalle anche applicativa quindi in realtà qui il problema sarebbe piuttosto risolto perché riusciamo in questo caso appunto pienamente a preparare il nostro dato a costruire attraverso la parte back office costruire e vestire i dati dei i layer dei dati raccolti la creazione di mappe appunto tematiche che si possono che raggruppano essenzialmente dati coerenti tra di loro che messi insieme hanno un certo significato e permette di organizzare e preparare appunto la vestizione di tutti questi dati questo lato lato back office per poi essere fruito lato front end all'interno di questa architettura è possibile configurare la pubblicazione della mappa attraverso un anello di congiunzione in questa architettura specifica la configurazione della mappa avviene attraverso un plugin di QGIS che permette appunto la configurazione delle mappe per essere esposte attraverso il client litsmap e quindi l'operatore può configurare le opzioni il punto di pubblicazione dalle le scale di visualizzazione dei livelli quali livelli devono essere attivi di default quali sono visibili quali quali no è possibile anche configurare un accesso differenziato di utenti quindi differenti e quindi è possibile creare interfacce dedicate anche a profili particolari possono essere il pubblico in generale oppure anche attraverso autenticazione e invece profili che hanno magari necessità di vedere anche online dato diverso più dettagliato e poi appunto è possibile la visualizzazione dei dati attraverso proprio litsmap web client client web che mostra appunto i progetti che sono stati creati realizzati per la visualizzazione la fruizione lato web a questo punto il nostro obiettivo nel tempo comunque sarebbe raggiunto e in realtà fino a questo punto più o meno coperto in maniera molto più ad alto livello probabilmente delle altre volte in cui si è parlato nello specifico magari di casi di catasti strade realizzate internamente ma non ho detto niente di di nuovo questa è un po' la soluzione adattata nel tempo anche con insomma con profitto soddisfazione però cosa succedeva tra l'altro dovete tenere conto anche che nel frattempo il tempo dal punto di vista della tecnologia passa anche molto velocemente e alle soluzioni se ne affiancano ormai ogni cinque anni altre o si perfezionano le le soluzioni o si possono anche incrociare tra di loro ora parliamo di un'architettura abbastanza definita anche come ambito di applicazione e che tipicamente era proposta fino a un po' di tempo fa così come componenti installate su uno più server a seconda delle prestazioni richieste e è consegnato poi a chi di dovere al cliente che doveva poi gestire l'informazione che si trovava quindi poi bene o male degli applicativi installati su infrastrutture server hardware magari di propria proprietà e tipicamente un'amministrazione pubblica ha anche il suo diciamo team di gestione hardware quindi all'interno appunto della rete dell'amministrazione di turno cosa succede poi nel tempo il lavoro non finisce qua solo perché probabilmente una volta verificato che il problema iniziale è risolto lì inizia il lavoro vero e proprio ma poi di raccolta dati gestione dell'informazione ma lato di sviluppo in realtà rimane ancora un onere di manutenzione perché nel tempo in realtà le cose non rimangono sempre così come come sono più che altro nel tempo si scoprono sempre cose nuove e quindi anche il software è soggetto a obsolescenza nel tempo solo il fatto che comunque soluzioni nuove ogni 3-4 anni 5 sono comunque si possono trovare in realtà quello che va anche avanti è lo sviluppo e dei singoli componenti che erano già esistenti prima si scoprono nuovi bacchi nuove vulnerabilità che vanno comunque riparate perché non si può soprattutto tenere un'infrastruttura in rete raggiungibile di cui nel tempo si scoprono sempre appunto nuove vulnerabilità per cui è sempre più noto che è possibile entrare a fare danni nei sistemi esposti o approfittarsi delle risorse di questi sistemi esposti proprio per queste vulnerabilità quindi nasce nel tempo l'esigenza di periodici aggiornamenti di sicurezza delle componenti in primis esigenze di periodici aggiornamenti di sicurezza non solo delle componenti che noi abbiamo discusso prima ma anche siccome sono installate su macchine diciamo che c'è una parte di sistema operativo che non dipende da scelte che in realtà di quelle di cui ho parlato sono le scelte da parte nostra diciamo di offerta della soluzione ma sono componenti di sistema che sono frutto di scelte invece probabilmente dei sistemisti che mettono sulle macchine a disposizione eccetera quindi sono entrambi aggiornamenti software ma hanno comunque componenti diverse competenze diverse ma non si può comunque dividerseli proprio così io faccio questo tu fai quello talvolta esistono anche delle compromissioni delle dipendenze comunque di soluzioni proposte aggiuntive da libreria di sistema per cui poi l'aggiornamento di uno comporta l'aggiornamento dell'altro perché non sempre le versioni si supportano in maniera a pieno diciamo in maniera retroattiva per cui sono due ambiti che portano a far discutere comunque le parti in gioco e a mettersi d'accordo su eventuali aggiornamenti che devono essere fatti anche in parallelo ho parlato appunto di problemi di compatibilità nel tempo con i requisiti quindi la compatibilità delle diverse componenti sia interna alla soluzione che tra le componenti della soluzione quelle di sistema operativo e quindi tutte queste componenti portano a una costante comunque manutenzione e lavoro sulla sull'infrastruttura facciamo un piccolo salto vediamo poi come questo centra con il nostro problema sto cercando sempre più di astrarre partire da un problema concreto reale e di buttare dentro un po' di stimoli su anche diciamo approcci un po' trasversali buone pratiche abbiamo già visto che prima per risolvere il problema insomma del catastro strade anche risolvere e più che altro assolvere a certe indicazioni molto precise di realizzazione di architetture di un certo tipo in realtà abbiamo appunto fatto operazione di discretizzazione del problema quindi abbiamo diviso il problema della gestione del dato spaziale di una catastro strade in intanto un problema di raccolta dati un problema di manutenzione dei dati un problema poi di esposizione dei dati che si porta dietro problemi di anche permessi sui dati raccolti la possibilità appunto di suddividere anche per importanza il dato raccolto quindi ci siamo già un po' rifatti a alcuni paradigmi di sviluppo intanto che sono di diciamo problem solving se vogliamo da un certo punto di vista ma che poi nel ambito di sviluppo software trovano comunque una loro anche formalizzazione e qua comunque siamo sì nel problem solving se dobbiamo risolvere il nostro problema iniziale catastrobrale ma lo facciamo poi con strumenti informatici dando appunto un'architettura utile all'operazione che ci siamo posti all'inizio quindi quali sono le buone pratiche di sviluppo di una soluzione basata su software intanto appunto abbiamo visto la discretizzazione la soddisfazione del problema per poter appunto risolvere i problemi un problema complesso risolto attraverso la soluzione di diversi sottoproblemi noti e gestibili intanto anche chiudendo certi ambiti o rivolgendosi a certi ambiti in cui magari alcuni problemi sono già risolti noi partiamo da un problema che ha a che fare con la gestione delle strade ma poi ci troviamo anche subito nell'attuazione delle indicazioni di leggi in realtà risolvere problemi di rete risolvere problemi di protocolli di standard e quindi siamo già passiamo da un ambito all'altro in maniera anche abbastanza veloce e esistono appunto ambiti in cui il problema della distribuzione del dato a prescindere da quello che è sono già risolti quindi perché non far rientrare anche questo dato in quegli ambiti in modo che da non reinventare appunto la ruota è necessario in generale poi anche contare i dati sotto problemi per capire in quanto tempo sono risolvibili con quali risorse con quali competenze credo che sostanzialmente averlo già detto anche nelle parole di prima è necessario catalogare quindi verificare quali sono i problemi noti le possibili soluzioni che già si possono applicare per risolverli in modo poi da dedicarsi in maniera custom a quelli che invece rimangono come problemi a cui non c'è una soluzione che già va bene sempre più si può andare dal generale al dettaglio nel nostro problema come dicevo prima il problema della distribuzione in rete ci rivolgiamo a software di distribuzione in rete di dati il dato però è geografico ci rivolgiamo anche qua a ambiti in cui le problematiche di gestione del dato spaziale sono risolte e ho citato prima l'estensione PostGIS che internamente risolve con le sue funzioni le sue classi la gestione del dato spaziale internamente ci rivolgiamo poi anche agli standard di funzione del dato geografico ho citato già prima VFS VMS come acronimi di protocolli dedicati a questo quindi il catalogare serve a quello per poi implementare e mettere in atto le soluzioni sia quelle già note che dedicarsi poi agli sviluppi che servono invece ancora che essenzialmente sono quelli custom del cliente che viene a chiedere allora a quel punto a necessità di gestire un certo tipo di dato si possono probabilmente banalmente una stessa diciamo elemento tipo un cartello stradale è gestito con in maniera molto simile da una regione all'altra in Italia ma sicuramente non troverò mai una soluzione effettivamente uguale a meno che non sia implementata dalle stesse persone e poi anche perché le richieste magari di per protocolli per workflow interni sono un po' diverse è necessario anche poi poter testare e verificare le soluzioni implementate che funzionino correttamente che siano prestanti che stiano appunto alle alle soglie che ci si prefigge di prestazioni è necessario ottimizzare poi una volta risolti i problemi ma renderli anche sempre più efficienti documentare le soluzioni anche questo sempre sia nei confronti del cliente che anche se si produce come nel nostro caso del software in realtà ridistribuito in rete è disponibile per essere modificato e riattuato anche per chi può poi nel tempo riusare le soluzioni e poi manutenere monitorare l'uso del software che insomma fa parte della manutenzione di cui citavo prima perché comunque il software è soggetto a quella obsolescenza quindi bisogna correggere i bug o comunque applicare le patch di correzione dei bug dei software terzi e via di questo passo una soluzione che secondo il mio punto di vista e qua andiamo più sul caso insomma finalmente un po' particolare ma prima bisognava un po' mettere di carne al fuoco per capire alla fine quali erano le problematiche non erano solo quelle prettamente del catastro strade il catastro strade era una scusa si possono mettere si può partire da altre problematiche similari che poi sono comunque risolte dall'architettura che abbiamo visto le problematiche della manutenzione dell'obsolescenza del software sono quelle che abbiamo visto bisogna a un certo punto darsi anche dei metodi per proprio affrontare anche questa parte quindi non solo il problema iniziale ma anche la parte poi finale di manutenzione va un po' affrontato in maniera dedicata dicevo anche prima che nel frattempo ogni tot anni in realtà le cose a disposizione gli strumenti a cui rivolgersi a punto di vista soprattutto informatico e oltre che talvolta anche le offerte hardware sono sempre nuovi una di queste sicuramente soluzioni degne di nota che hanno tratto in questi anni la nostra attenzione è sicuramente la piattaforma docker cerchiamo di capirla giusto per quello che serve in questo caso quello che ho colto qua è un po' le indicazioni che la documentazione in rete fornisce non sempre sono chiarissime per capire che cosa fa la piattaforma docker comunque è una piattaforma open source quindi ci attengiamo sempre dall'ambito del software libero per sviluppare quindi di seguire e eseguire applicazioni e diciamo contempla tutte le fasi sia dallo sviluppo alla messa in produzione del dei nostri applicativi con la possibilità di rivolgersi tra volta a soluzioni anche diverse quindi è possibile fare sviluppo basandosi sulla piattaforma docker e magari fare deploy fuori da questa piattaforma questo non è obbligatorio e talvolta è richiesto dagli stessi anche clienti abbiamo trovato clienti ancora un po' ostili ad adottare internamente la soluzione docker come deploy come produzione però si possono trarre comunque vantaggi da questa piattaforma per quanto riguarda la parte di sviluppo quindi perché no perché non rivolgersi comunque anche per avere e qua parlo come parte di team di sviluppo per avere anche per attingere sempre anche da soluzioni che sono sempre più simili tra di loro in modo da poter anche essere un po' più veloce nel produrre e nel proporre le soluzioni in dover ogni volta avere tempistiche magari lunghe di preparazione di una demo di un'architettura per una demo che sente quindi preparare applicazioni dall'infrastruttura di separare l'applicazione dall'infrastruttura permettendo una consignazione software più rapida direi questo un po' prendetelo per come parola data nel senso che in realtà allora quello che fa per capirci un po' è dare permette di realizzare progettare un'infrastruttura di servizi e alla fine la cosa che io vedo meglio per capirci alla fine è un insieme di come se fosse una rete di di server ognuno dedicato a un servizio prima abbiamo parlato di diversi componenti molto specifiche ognuna di queste componenti può essere curata attraverso appunto questa piattaforma di sviluppo e realizzata attraverso quelle potrebbero sembrare appunto delle virtualizzazioni di singoli servizi che si parlano tra di loro si potrebbe quindi pensare a virtualizzazioni del per esempio QG server che attinge i dati da una virtualizzazione di un servizio per database e poi una virtualizzazione ulteriore quindi una ma praticamente un sistema un ambiente dedicato invece a a far girare l'interfaccia di Leeds Map Web Client e queste componenti che non sono più componenti software ma sono intesi proprio come servizi a sé intesi in realtà come servizi quasi hardware a sé ma gestiti in maniera software questo permette in realtà anche appunto ancora di più rispetto a prima di potersi dedicare nelle fasi di sviluppo a un problema per volta quindi nel momento in cui io so che ho bisogno di una oggi come oggi di uno storage basato su Postgres posso semplicemente includere nella mia architettura una componente tra l'altro basata su Postgres che esistono già pronte quindi realizzate per noi e quindi già in pochi minuti passare al problema successivo Postgres ce l'ho mi rivolgo magari alla componente già pronta con anche installato Postgres e ho già risolto il mio problema dello storage quanto meno di dove mettere la roba posso già cominciare a pensare a una progettazione del modello quindi quante tabelle saranno necessarie in quali schemi dovrò distribuire le mie informazioni per meglio gestirle eccetera quali trigger quali logiche avrà necessità il mio database basato su questa infrastruttura quindi di manutenzione di manutenzione di integrità di dati interne e via discorrendo e quindi penso già alla soluzione del caso custom che mi è stato posto e ho già risolto l'applicazione l'adozione del database è anche risolta molto facilmente velocemente in realtà la manutenzione degli aggiornamenti perché dopo magari vediamo anche molto velocemente come sono fatte come sono gestite proprio questi aspetti e quindi utilizzando le metodologie docker che prevedono appunto sia le fasi di distribuzione anche di test implementazione del codice e quindi è possibile ridurre significativamente il tempo della scrittura della messa in produzione ora se cercate in rete docker troverete documentazione e gente che si si sbraccia e si sgola a dire che in realtà non è una virtualizzazione è una tecnologia molto diversa da le macchine virtuali a cui eravamo abituati qualche anno fa però dal punto di vista della produzione è abbastanza facile e chiaro invece pensarle proprio come virtualizzazione di singoli sistemi che poi a basso livello siano basate sul stesso sistema operativo che fa girare il server su cui gira diciamo il motore di docker e che questo ottimizza notevolmente le risorse e quindi da prestazioni in generale migliore ottimizzate rispetto a soluzioni appunto di virtualizzazione come soluzione ormai un po' vetusta va bene però se dobbiamo capire che cosa fa secondo me è utile passare da questa metafora ormai e quindi alla fine con questa soluzione quali vantaggi andiamo a ottenere in prima battuta andiamo a mettere d'accordo un po' di più le parti in gioco e qua ho in mente più che altro qual è il nostro background di lavoro in particolare andiamo a mettere d'accordo chi mantiene i sistemi forniti come soluzione in questo caso del catastro strade con chi mantiene invece l'infrastruttura hardware e i sistemi operativi di chi dà per esempio le macchine perché sono magari appunto non vengono forniti dall'azienda come tipo di servizio la macchina in sé ma magari appunto l'amministrazione pubblica ha necessità di ospitare su loro infrastruttura hardware le loro applicazioni e i loro dati mette d'accordo appunto le parti in gioco perché ridefinisce i limiti e le competenze tra la manutenzione di sistema e la manutenzione dell'architettura software perché queste due parti il sistema operativo in pratica e l'architettura software di soluzione sono più separate sono la seconda quella dell'architettura software delle soluzioni è rinchiusa all'interno appunto di pseudo virtualizzazioni che possono essere singolarmente mantenute aggiornate e l'unica richiesta è la compatibilità con il motore docker che le fa girare e poi comunque anche il motore docker ha richiesto una compatibilità con il sistema operativo però questo in realtà separa comunque sufficientemente le due le due parti rendendo più chiara anche le le competenze quindi se la vulnerabilità che viene segnalata in alzata è riguardante come spesso succede a noi per esempio riguarda il lo storage il database serve mettere una patch all'instituzione di postgres si può fare rivolgendosi poi appunto a a soluzioni più aggiornate della singolo componente ma essenzialmente il sistema operativo può essere lasciato così com'è viceversa se la la vulnerabilità segnalata riguarda invece c'è parte di sistema che hanno meno a che fare con la parte di architettura di soluzione del problema allora è facile anche che in quel caso la richiesta di aggiornamento non ci arrivi nemmeno e venga fatta direttamente dai tecnici di turno quindi l'altro vantaggio è la definizione esplicita dell'ambiente di deploy in maniera anche capillare fino alla versione dei singoli requisiti è possibile alla fine la configurazione attraverso il sistema docker avviene attraverso banalmente dei file di testo in cui vengono fissate delle configurazioni e questo permette intanto di dire che la mia soluzione è basata su anche certi requisiti di ambiente quindi un certo sistema magari operativo alle spalle e posso dire anche mi servono fissandolo scrivendolo e una volta per tutte portandomelo dietro poi come informazione anche quali sono per esempio le versioni dei requisiti a contorno se ho necessità di librerie che so servono di una certa versione per farle girare con diciamo l'applicativo che a cui io sto pensando per fornire la soluzione posso fissare anche tutta questa serie di versioni una volta per tutte e avendocele scritte su un file in cui posso andarle a rivedere posso andare a scoprire anche se appunto posso cercare di aggiornare alcune per sfruttare poi nel tempo nuovi nuovi strumenti e quindi ho la possibilità di adottare anche strumenti di versionamento anche per la definizione dell'architettura io versiono fisso una volta per tutte e nel tempo posso anche cambiare e decidere che la nuova versione dell'architettura è basata su un componente più aggiornato e mi basta solo appunto modificare il riferimento della versione che mi serve ovviamente in quel periodo dovrò non solo cambiare quell'informazione ma testare che poi in separata sede che l'architettura in realtà funziona e per poi appunto segnare l'adozione di queste nuove versioni come definitiva che va bene e quindi adottarla anche finalmente in produzione questo permette proprio una pianificazione anche di queste operazioni più controllata e conscia e quindi una gestione controllata appunto degli aggiornamenti in senso lato e un approccio di sviluppo anche attraverso workflow di sviluppo ottimali che nel tempo sono andati definirsi in ambiti informatici e che hanno appunto necessità comunque di una repository di riferimento un posto dove effettivamente gli sviluppi possano essere fatti condivisi team di sviluppatori devono poter essere in grado non di accedere al deploy dell'applicazione all'applicazione in produzione per metterci mano ma devono poter essere messi in grado di tirare su quell'applicativo anche autonomamente su proprie macchine per poter appunto andare a testare le parti sviluppare nuovi componenti e poi passare in produzione le queste nuove feature in sostanza viene trattato anche una soluzione un software che alla fine è pensato per un caso in maniera come se fosse in realtà un software distribuito perché anche a livello di sviluppo deve essere possibile proprio scaricare tirare su quell'applicativo per poterci per poterlo analizzare e alla fine è una distribuzione di un software anche se il caso di applicazione è sempre poi solo uno quindi si può in questo modo applicare i paradigmi di un software distribuito che sono in realtà più come dire hanno più buone caratteristiche cioè hanno a che fare con problematiche della distribuzione che sono più difficili cioè se è pensato il software in quell'ambito come software da essere distribuito in realtà è sicuramente un prodotto già migliore anche se applicato poi in un caso singolo è vero che il catastro strade della provincia di una provincia non sarà mai poi una soluzione ideale ma andrà sempre adattato anche per un'altra provincia però appunto pensato pensandolo come come software da distribuire può comunque essere derivato per l'applicazione poi ulteriore più specifica quindi questi vantaggi sono quelli che abbiamo voluto mettere in campo nel nostro caso specifico data anche la partecipazione insomma di chi ha sentito probabilmente gli argomenti che non gli erano cioè che gli erano familiari saluto appunto varie fiatoscane e sto parlando come caso di applicativo appunto del catastro strade di Piacenza in questo caso di cui ci occupiamo in quel caso appunto viste tutte queste problematiche nel tempo e possibili soluzioni e vantaggi di queste applicazioni abbiamo pensato di appunto andare verso un processo di come si dice in ambito dockerizzazione della soluzione quindi di introdurre questa volta in realtà in corsa la gestione attraverso la piattaforma docker della soluzione di questo catastro strade in particolare tra l'altro facendo anche una cosa non male questa rilevando una anche retrocompatibilità di questa tecnologia con l'esistente quindi la possibilità di iniziare anche in maniera più con quelli che erano gli strumenti magari prima dell'uscita in campo di docker e far rientrare la piattaforma che è di sviluppo anche in in corsa quello che si è fatto è trovare essenzialmente un'architettura già dockerizzata che rispecchiasse il più possibile quella proposta inizialmente era basata su diciamo sulle componenti che girano intorno qua l'interfaccia sviluppata dalla ditta tra leeds un'azienda francese che è appunto leeds map web client che è un client pensato per diciamo distribuire i dati raccolti attraverso la piattaforma degli strumenti QGIS e che non solo nel tempo ha fornito appunto leeds map e i componenti utili alla realizzazione di queste di questa infrastruttura ma anche abbiamo trovato che forniva proprio anche la la soluzione già dockerizzata quindi una un'architettura già suddivisa in parti per mettere in piedi velocemente un'architettura basata su sull'eeds map questo ci ha dato garanzia intanto di compatibilità della dockerizzazione con il software alla base perché prodotto dagli stessi sviluppatori ci ha dato fiducia nel fatto che fossero entrambe quindi soluzioni che poi possono essere manutenute nel tempo a cui possiamo riferirci spesso nel tempo più avanti anche senza trovarci scoperti magari prima o poi da dallo sviluppo e quindi abbiamo pensato di adottare questa questa soluzione quindi di sostituire le componenti che ora stanno ancora girando in realtà per quanto riguarda la parte di produzione su catastro strade con componenti che sono gestite all'interno dell'architettura docker ora diamo un'occhiata per più magari se c'è qualche curioso se ci sarà a vedere il video a effettivamente cosa consiste questa repository e questo quindi questa soluzione offerta quando parlavamo di docker ho parlato di configurazioni attraverso file di testo essenzialmente l'architettura è espressa all'interno di questo file YAML un file strutturato di informazioni in cui in realtà una volta guidati è facile almeno comprendere da che parti è composta questa architettura ha una prima parte che qua chiama l'ITSMAP chiaramente è la parte di sono le configurazioni legate all'interfaccia grafica al web client con intanto l'immagine di riferimento si parlava prima appunto di virtualizzazione praticamente quello che viene scaricato si chiama un container o meglio un container immagine del diciamo sistema operativo che fa girare il software già pronto e confezionato per noi manutenuto dalla trelizza a cui e di cui sono disponibili diverse versioni in particolare qui la versione qua è riferimento con una variabile ma la versione di riferimento di l'ITSMAP di cui si trova scaricando così la la versione è contenuto all'interno delle variabili di questo file di variabili e quella di default l'ITSMAP version è la 3.8 quindi piuttosto aggiornata allo stesso modo si può vedere poi cominciamo dalle parti più core più di basso livello c'è una componente postgis questo è solo un nome ma poi effettivamente è una installazione di postgis di cui anche qua abbiamo fissata una versione e poi vabbè configurate anche altre altre cose ma per una parte colloquiale è sufficiente notare notare questo l'altra componente che qua fa portare a coincidenza quello che si diceva all'inizio del discorso è la componente map in cui in pratica si fa riferimento a un QGIS server specifico per appunto pescare i dati dallo storage di postgis appena visto e distribuirli verso poi l'interfaccia che viene poi tirata su realizzata attraverso queste indicazioni quindi in pratica con poco sforzo comunque non sono molte righe di codice qui si sta indicando una certa architettura e sarà sempre uguale e sarà anche realizzabile molto velocemente lanciando poi dei comandi che sono uguali per tutti quindi un team di sviluppatori può essere messo al lavoro su diversi aspetti dell'architettura e in questo modo può lavorare in autonomia completa e poi condividere le proprie sviluppi una volta attestati localmente e questo è il vantaggio poi che si voleva un po' includere adottando questa soluzione questa repository in particolare funziona con la configurazione dell'architettura e in primis comunque c'è un file un readme che spiega passo passo come in pratica tirare su le istanze dell'architettura e le fasi sono essenzialmente due lancio di una configurazione che prepara la cartella locale definendo localmente alcuni file di variabili e una cartella dove sono dove si attinge dove l'izmap attinge i file di configurazione dei progetti e poi basta lanciare in realtà il comando di lancio di questa architettura e viene resa disponibile localmente l'altra cosa così da notare che fa parte delle cose che ho visto studiando questa soluzione questa repository questa cartella contiene alcune cartelle e in particolare la cartella instances che contiene i progetti di QGIS due sono dati di default come esempio che una volta tirati su le cose in modo che si possa vedere che funziona è possibile aggiungerne altri custom e cominciare immediatamente a usare quell'infrastruttura come supporto per le nostre applicativi nel caso del catasto di piacenza ho voluto fare un po' di più in realtà ho voluto creare da questa soluzione assolutamente trasversale una soluzione in realtà dedicata proprio a quel catasto quindi poi è stato derivato dal software scusate dalla repository che avete visto è stata derivata in realtà una repository dedicata a cui ho iniziato uno sviluppo quindi ho fatto un fork essenzialmente su cui ho fatto dello sviluppo dedicato a quella soluzione in cui per scelta ho incluso anche proprio i file di progetto di configurazione del singolo di quel catasto strade e il versionamento anche del modello del database usato in questo modo è possibile nel tempo tener traccia anche di diverse modalità di lavoro adottate nel tempo dell'evoluzione che le stesse logic del database assumono e poterle appunto condividere testare a parte in maniera più produttiva la scelta di fare un fork ha avuto anche il preciso obiettivo di poter ereditare poi dal repository dato anche il suo buona provenienza che aveva poter ereditare poi dallo sviluppo i bug fix e le evoluzioni del progetto ma in maniera in realtà pensata anche lì quando si vorranno poi aggiornare l'architettura sarà possibile farme del rea dedicata testando poi i risultati quali sono stati e le problematiche risolvere le problematiche che l'aggiornamento può avere introdotto e quindi poter poi continuare a dare il servizio in maniera ottimale le scelte poi che sono state fatte essenzialmente appunto nel differenziarsi dalla repository di base sono state intanto l'introduzione di un database versionato perché era poi il core del problema catastro strade che veniva posto e che quindi nel tempo era giusto secondo noi mantenere traccia delle sue evoluzioni è stato introdotto il versionamento dei progetti QGIS perché nella soluzione nel problema specifico la soluzione contiene anche le parti di interfacciamento degli editor la modalità di esposizione del dato fa parte della soluzione attuata quindi è bene andare a versionare quindi tenere traccia anche di queste parti in prima battuta per far rientrare in corsa questo tipo di architettura in realtà è stato fatto anche un downgrade delle componenti disponibili per adattarle il più possibile a quelle attualmente in uso in corsa nella soluzione del catastro e poterle poi nel tempo intanto per dare una soluzione funzionante in più breve tempo possibile senza e qua sempre la logica di distinguere i problemi e affrontarli uno per volta distinguere quindi il fatto ora poniamoci l'obiettivo di dare di introdurre Docker all'interno di questa soluzione poi con gli strumenti forniti ci daremo anche gli aggiornamenti poi delle singole componenti intanto perché saranno richieste per sicurezza e poi saranno richieste anche per obsolescenza e finalmente dare sempre servizi con software aggiornato quindi alla fine quali vantaggi si sta ottenendo comunque ho voluto anche profittato per ragionarci un po' sopra per capire dove stavamo andando con questa soluzione che comunque sembrava avere buone caratteristiche ho voluto formalizzarle per ragionarci un po' sopra intanto ha avuto il vantaggio di raccogliere un set di componenti per una soluzione verticale rappresenta che cos'è abbiamo praticamente fatto una strazione di capire che cos'è che rappresentava quali componenti effettivamente constava il mio catastro strade qua tra virgolette ma il catastro strade customizzato per quella soluzione richiesta le componenti le abbiamo appunto quindi versionate definite nell'architettura quindi comprende sia il progetto QGIS completo dei tematismi forme di editing le automatismi le logiche del database per appunto la manutenzione dei dati interna per appunto l'integrità dei dati e tutto ciò che serve a soddisfare le richieste specifiche del cliente è stato possibile creare una repository unica che raccogliesse questa serie di componenti tutto il codice necessario quindi sviluppare gestire quindi anche realizzare separatamente per poterlo testare questo applicativo unico si potrebbe chiamare applicativo ma in realtà sono diverse parti che risolvono il problema e quindi creare un'unica repository centralizzata di riferimento e rende insomma anche dal punto di vista della manutenzione del sviluppo più chiaro la possibilità poi di introdurre anche altre parti nell'architettura quindi una volta che si rende utile per esempio la pianificazione di task automatizzati è possibile farla rientrare in questa architettura penso per esempio a in questi casi c'è sempre anche una struttura di script di acron di mantenimento di dati di aggiornamento notturno delle informazioni del database è possibile anche qua includere anche queste logiche che di fatto sono parte della soluzione del problema più generale di gestione del data su strade e quindi è un'architettura che prevede possibile anche essere implementato ulteriormente è stato quindi anche possibile introdurre un approccio di sviluppo intanto un approccio di sviluppo a tutti gli effetti in una soluzione che non aveva effettivamente all'inizio quando c'è questo tipo di soluzione quando sono poi installate su software come servizi separati non c'è un approccio effettivamente di sviluppo se non nelle singole parti quindi lo sviluppo di LeedsMap ha un approccio di sviluppo effettivo ma di questa soluzione nel suo completo in realtà si perde un po' il concetto di sviluppo cioè si era perso ora si sta cercando di recuperarlo anzi lo si è recuperato è possibile anche quindi pensare poi a linee di sviluppo interne qui si possono citare Agile ma prima abbiamo citato anche Continuous Development Continuous Integration e soprattutto uno sviluppo libero dai vincoli imposti delle politiche di sicurezza degli accessi che spesso anche quando si ha a che fare disponibile un'infrastruttura di test da parte della committenza però spesso comunque non è agevole metterci mano per lo sviluppo direttamente su architetture remote in cui l'infrastruttura di rete con le sue per verità oggi in realtà però si introducono comunque delle lentezze ulteriori anche di approccio anche solo inserire le password oggi come oggi c'è sempre una doppia autenticazione VPN insomma che sono più o meno stabili invece per lo sviluppo è possibile appunto prescindere da tutte queste condizioni che vengono spesso imposte da chi mantiene l'architettura hardware giustamente perché ha i suoi criteri di sicurezza e qua anche c'è una divisione dei compiti che è utile mantenere e quindi è possibile poi fornire software applicativi già testati e quindi poi avere a che fare con quelle condizioni nel momento in cui è utile e non sempre quando bisogna andare a mettere mano fare un test per riproporre analizzare un problema magari posto e quindi insomma questo sono un po' i contro non ne ho trovati e comunque mi interessava più vedere appunto i buoni propositi verso cui effettivamente si concretizzava questo approccio che insomma prima per intuito e poi mano a mano che ho buttato giù sembrava più effettivamente utile da applicare credo di avervi tediato notevolmente ho fatto un percorso molto pindarico in realtà poteva essere diviso per carità anche in piccole cose più che comunque avevano senso a sé magari trattarle lo stesso docker si potrebbe parlare per ore delle sue peculiarità ma intanto mi interessava un caso studio anche pratico perché è il mio approccio anche un po' di lavoro e di studio spesso anzi sempre trovare su un caso pratico effettivamente le soluzioni e poi effettivamente è stato il percorso che c'è stato professionalmente di sviluppo e poi per carità se ci sono interessi su particolari che sono usciti fuori si possono approfondire e anche prossime puntate approfondirli in maniera dedicata quindi vi ringrazio intanto per la pazienza siete stati comunque abbastanza numerosi e fino all'ultimo direi presenti se qualcuno volesse intervenire fare una domanda fare domande si può fare ancora dieci minuti di colloquio direi altrimenti vi rimando alla prossima al prossimo appuntamento mio collega Andrea maffia vi parlerà di altre cose completamente è ancora da definire ma l'ambito sarà quello del GNSS e degli errori della troposfera tutto abbastanza in fieri perché Andrea in realtà in questo momento è via per un progetto in Brasile insomma per e quindi sarà ancora più interessante perché probabilmente avrà raccolto dati utili alla discussione se qualcuno volesse così ho assolto anche il mio onere di dover appunto rimandarvi al prossimo appuntamento del 4 dicembre ma chi volesse intervenire può alzare una mano gli verrà data la parola può scrivere una domanda nella nella chat avete cinque minuti se no si può finire qua ringrazio comunque ancora chi è stato presente io ho parlato anche troppo mi sono veramente sforzato oggi non rompe il ghiaccio allora grazie potete ritrovare poi questa presentazione registrata su youtube il nostro canale aziendale tempo di poterla fare un po' di editing e metterla a posto oltre che a la renderizzazione un saluto al prossimo appuntamento del 4 dicembre di Grazie a tutti